Rissa tra due abbalestrate, uno muore, l'altro è stato condannato dalla Corte d'Assise di Palermo a 10 anni di carcere per omicidio, ma preterintenzionale. L'11 agosto del 2022 abbalestrate in provincia di Palermo un colpo inferto con un oggetto da taglio ad una gamba durante una rissa ha provocato la morte di un giovane di 22 anni, Vincenzo Trovato, nato negli Stati Uniti e residente a Trappeto. Notte tempo intorno alle ore 3 il ragazzo è stato condotto d'urgenza alla guardia medica dove è deceduto a causa della grave ferita alla gamba allorché la coltellata gli avrebbe reciso l'arteria femorale determinandone la morte per dissanguamento. La rissa sarebbe insorta sul lungomare Felice Danna a balestrate. A telefonare i carabinieri sono stati i medici in servizio alla guardia medica. Il 15 agosto i carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato Gianvito Italiano, 30 anni, residente a San Donato milanese ma originario di Castelvetrano in provincia di Trapani. Gianvito Italiano sarebbe stato indicato dalle dichiarazioni dei presenti nebbiale Felice Danna, alcuni dei quali amici della vittima, come l'autore della ferita alla gamba che avrebbe tranciato di netto l'arteria femorale di Vincenzo Trovato, provocandone la morte. Secondo quanto accertato dai carabinieri il delitto sarebbe maturato per futili motivi, forse per una spinta, per uno sguardo o una parola di troppo. Dopo una violenta discussione tra i due corredata da spintoni e pugni, Gianvito Italiano si sarebbe allontanato e poi è tornato armato con un coltello oppure di un pezzo di vetro, di una bottiglia rotta, che non è stato trovato. Ebbene adesso la Corte d'Assise di Palermo ha condannato Gianvito Italiano a 10 anni di carcere, addebitandogli non l'omicidio volontario come pretesso dalla procura, ma l'omicidio preter, intenzionale, con l'attenuante della provocazione. Il difensore della famiglia Trovato, l'avvocato Pino Muscolino, commenta «Leggeremo con attenzione le motivazioni della sentenza. Se riterremo che sussistano i presupposti, solleciteremo noi stessi la procura ad avanzare appello contro questa sentenza di primo grado». «Leggeremo con attenzione le motivazioni della sentenza di primo grado». «Leggeremo con attenzione le motivazioni della sentenza di primo grado».